sono un consigliere comunale ma sono anche un giornalista allora si è gridato allo scandalo perché il sindaco melucci ha detto ora mi sono stancato voglio sono intenzionato a procedere legalmente a querelare chi diffama me la mia amministrazione e quant'altro e i partiti i regressisti non i progressisti perché io non li chiamo più progressisti loro sono rimasti all'epoca di Mao Zedong di Stalin di Lenin si sono ribellati si sono rizelati attentato alla democrazia l'amministrazione comunale il sindaco vuole tappare la bocca alla libera informazione chiariamo una cosa io sono stato molte volte tante volte critico nei confronti dell'amministrazione melucci ma ricordate bene cari partiti cari partiti regressisti e colleghi giornalisti ricordate bene che una cosa è la critica politica amministrativa dura feroce l'ho fatta anch'io tante volte altra cosa ben altra cosa è l'offesa la diffamazione il dileggio denigrare fare allusioni alla vita privata parlare di gossip questo è grave gravissimo e da un punto di vista deontologico lo dico soprattutto ai giornalisti ma diventa grave anche dal punto di vista penale perché ripeto una cosa è il diritto di credito di critica e un'altra e altra cosa è la diffamazione io sono stato durissimo nei confronti di tutti centrodestra e centrosinistra c'è tutta la mia storia che parla chiaro io sono un civico trasversale ai partiti ma vi dico che non ho preso una querela in vita mia una querela e allora il partito democratico deve imparare la differenza i regressisti che sono i cosiddetti finti progressisti devono imparare che cosa significa criticare e che cosa significa diffamare perché loro evidentemente si vogliono sentire legibus soluti e si vogliono sentire liberi di offendere di diffamare chiunque trincerandosi nascondendosi celandosi dietro questo diritto di critica diritto di critica è una cosa diffamazione né un'altra e allora fa bene il sindaco menucci a querelare a querelar fa bene e lo stesso sto facendo e continuerò a fare io perché poi queste persone quando li quereli e quando gli chiedi il risarcimento del danno si fanno piccoli piccoli si fanno pecorelle incominciano a piangere incominciano ad invocare pietà e lì non si deve avere nessuna pietà chiedere il risarcimento del danno e poi il risarcimento del danno darlo in beneficenza a chi sta male e così come si suol dire questa gente incomincia un po' a mettere il sentimento perché qui si sta giocando troppo sul diritto di critica il diritto di critica va a sconfinare diventa diffamazione diventa offesa diventa denigrare far soffrire le persone far soffrire le famiglie imparate e non nascondetevi dietro una falsa democrazia cari signori regressisti altro che progressisti